Mark Lua ha 32 anni e pensate che si è dichiarato colpevole di avere abusato a livello sessuale di alcuni studenti, ha chiesto al giudice la castrazione chimica come punizione, invece è stato condannato a 12 anni di reclusione in carcere. Lo ha fatto dare in solita richiesta quella di farsi rimuovere le palle, i testicoli, come si dice nel linguaggio medico, per schivare il tempo di prigione alla corte di Penas, di Penasco, nella giornata di mercoledì, come pensa la scuola, ad informare pubblicamente. L'uomo ha bisogno di debito, le mie azioni sono spregevoli in merito alla castrazione, la rimozione fisica dei testicoli, delle palle. Ma ecco che il giudice ha detto no, non posso fare una cosa del genere, non accetto che ti vengano rimossi i testicoli, le palle, che di se voglia, e ti condanno a 12 anni di reclusione in carcere. Cotto e mangiato, questa è stata la richiesta che è stata accettata, l'uomo dunque riceve una condanna a 12 anni di reclusione in carcere. Ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto caro italiano, un anno a due italiano.